Musica Sempre qui da Piazza Borsa siamo con Cantogno Allora come vi è sembrata la partita di ieri? Guarda la partita di ieri mi sembrava che il Napoli deve vincere Però ieri che il Napoli non è stato vinto perché il giocatore non ci hanno affatto a vincere Però il Napoli se vuoi vincere Però devi comprare i giocatori Dell'Aurendi non puoi comprare perché i soldi non puoi cacciare Però se il Napoli caccia i soldi noi siamo una grande squadra Sempre forza Napoli Senti un'altra domanda ma secondo te quale giocatore deve arrivare a gennaio per migliorare questo Napoli? I giocatori ci sono molti però dell'Aurendi deve pensare Siamo molti giocatori che sono campionissimi Però la piazza dell'Aurendi che ha i soldi è sempre lui che ne puoi cacciare Però speriamo che il Napoli a gennaio arriva un grande giocatore e anche una rosa Io spero che arriva un giocatore da tutti i giocatori che ci stanno adesso Però speriamo che il Napoli vinca e fa la partita migliore Noi pensiamo solo nelle coppie per prendere le scolette Sono 21 anni che prendiamo le scolette a Napoli Spero che questa volta ce la facciamo Grazie